In quei conteggi che poi ci propisano sui giornali sono sette contratti di lavoro, ma è quella persona che ha avuto sette chiamate in un mese. Ma di cosa stiamo parlando? Ci vuole un piano per il lavoro, ci vuole un piano industriale e permettetemi, i soldi, chi ce li ha, ce li ha. Abbiamo una quantità di persone che hanno crediti e capitali immensi e allora ci vuole una tassazione progressiva, tutta la prima aliquota va detassata, bisogna fare una tassazione progressiva, bisogna fare una tassa patrimoniale, una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze sopra il milione di euro, non mi scampiero mai di dirlo, e bisogna fare una vera lotta all'evasione fiscale. Perché questo è un paese con una quantità di evasori enormi e parlo dei grandi evasori, non del piccolo artigiano che si dimentica di fare uno scontino, perché se si vanno a recuperare quei soldi, quelli della patrimoniale, ci saranno i fondi anche per delle politiche sociali che un paese civile mette.